Si conferma anche quest'anno il successo del job meeting promosso dal centro impiego della provincia di Milano, un punto di riferimento per i giovani nell'incontro tra le diverse realtà del lavoro, della formazione e dell'orientamento. Il lavoro al centro del dibattito politico italiano. Cosa fa la provincia di Milano con le AFOL per agevolare l'occupazione giovanile? Il lavoro davvero al centro del dibattito politico e al centro delle preoccupazioni di tutti noi, dei nostri concittadini, delle famiglie, laddove da un lato i giovani non trovano lavoro e siamo a delle percentuali mai esistite nel nostro paese. Dall'altro anche le persone che magari hanno 55 anni vengono espulse dall'attività lavorativa e hanno una grandissima difficoltà a ricollocarsi. La provincia di Milano in questi anni ha avuto un obiettivo molto preciso che adesso finalmente si avvia e trova conclusione. Ed è quello di superare quella parcellizzazione di interventi e invece è necessario che vi sia una dimensione perlomeno di territorio metropolitano, quindi territorio provinciale, perlomeno sicuramente anche di più. E quindi il fatto di andare verso un'AFOL metropolitana che riunisca questo, ma anche in una logica di recupero di efficienza e di riduzione dei costi, è quello che è necessario fare. Vede, in questo momento in cui ha un ruolo centrale il tema del lavoro, sia in sede parlamentare, ma soprattutto in sede di realtà sociale, questa iniziativa è molto importante. Il Parlamento sta cercando di dettare le regole riguardanti i rapporti tra le imprese e il mondo del lavoro, in cui si incrociano tra di loro esigenze profondamente diverse, da un lato l'esigenza dell'impresa, dall'altro l'esigenza della tutela del lavoratore. Ma il mondo del lavoro ha bisogno di essere inserito nelle realtà aziendali e di questa necessità si prende carico l'attuale AFOL, che è una struttura di fondamentale importanza in questa materia. Ma io ritengo che l'iniziativa di Job Meeting sia un'iniziativa molto importante, perché dà la possibilità a chi è in cerca di lavoro di trovare comunque delle soluzioni, delle prospettive o delle proposte, sia per quanto riguarda un percorso di lavoro di subordinazione e sia per quanto riguarda un percorso di autoimprenditorialità. Grazie.